L'induzione ipnotica Ora mi guardate nel mio occhio destro, sempre in quello, sempre in quello. Fra poco sentirete le vostre palpebre pesanti, le vostre palpebre diventano sempre più pesanti, sempre più pesanti, pesanti. Sentirete la voglia di chiudere gli occhi. Ora gli occhi si sono chiusi e sentite le vostre braccia molto leggere, leggere. Talmente leggere che vanno in alto, si alzano, le braccia si alzano piacevolmente in alto. In alto, ancora con sensazioni piacevolissime di una profonda liberazione. Piacevolmente in alto, in alto, ancora di più, ancora piacevolmente e si incrociano le dita. Sopra la testa si incrociano le dita, piacevolmente, piacevolmente. Ancora, ancora di più, ancora. E più le mani vanno su, più vi sentite rilassate, tranquille, serene. Tranquille e serene, tranquille e serene. Ora il vostro corpo comincia a fare i giri. Il vostro corpo comincia a girare, girare, sempre di più, sempre di più, con sensazioni piacevolissime, piacevolissime, piacevolissime. Benissimo, 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 benissimo. Ora conterò da uno a dieci e quando avrò detto dieci si apriranno i vostri occhi e vedrete le cose che mai prima avete visto, che mai prima avete notato. A dieci raggiungerete la massima profondità del vostro stato ipnotico, una trasformazione profonda. A dieci si apriranno i vostri occhi e vedrete le cose che mai prima avete immaginato, avete visto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ora si aprono gli occhi, le pupille si aumentano sempre di più, diventano grandi, enormi, più enormi diventano più siete felici, più siete felici. Vedete le cose mai prima viste, mai prima notate, diventa una estasi, una trasformazione profonda ma tanto piacevole, tanto piacevole, tanto piacevole, tanto piacevole, tanto piacevole. Esiste solo la vostra realtà piacevole, tanto piacevole, tanto piacevole, tanto piacevole. E di colpo si chiudono gli occhi, si chiudono, si chiudono, le mani vanno giù, vanno giù, vanno giù. Ma rimane un bellissimo ricordo, un piacevolissimo ricordo, che avete vissuto. Piacevolissimo, piacevolissimo, piacevolissimo. Ora il tuo corpo sta diventando leggero, leggero, tanto leggero. Si rilassano le braccia, le mani, le gambe, i piedi, l'addome, il torace, la schiena. La bocca, le labbra, le guance, il naso, gli occhi e la fronte. Il tuo stato ipnotico diventa sempre più profondo, sempre più profondo, sempre più piacevole. Non c'è più tempo e spazio. Esiste solo la mia voce e le tue sensazioni piacevolissime. Piacevolissime, piacevolissime. Piacevolissime. Un profondo rilassamento, il tuo respiro diventa calmo e tranquillo. Calmo e tranquillo. Calmo e tranquillo. Ora sei già sufficientemente rilassata e noti che il tuo corpo sta diventando pesante, 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 pesante. Come fosse di piombo, come fosse di legno e il tuo braccio sinistro diventa insensibile. insensibile, sempre più insensibile, come fosse di metallo, insensibile, come fosse di ghiaccio. di ghiaccio, di ghiaccio, di ghiaccio. Si annulla la percezione del braccio sinistro, della pelle e dei muscoli. fra poco ti sembrerà come fosse il tuo braccio sinistro, quasi tolto, come non ci fosse più. Così sarai liberata dal tuo braccio sinistro, sinistro. e ora la tua mente va molto lontano, sta abbandonando il tuo corpo e tu vai indietro nel tempo e nello spazio, indietro, sempre più indietro e ti vedi con un altro corpo in un'altra vita, in un'altra realtà. E questo vivi e hai solo le sensazioni piacevolissime, solo le sensazioni piacevolissime, piacevolissime. come hai un altro corpo e vivi un'altra realtà, la mia voce ti suona da lontano, ti sta accompagnando in questa nuova realtà, in questa nuova realtà, in questa nuova realtà, che sembra che non è di questo mondo, che è lontana, 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 assolutamente lontana, 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 e lo vivi con tanto piacere, vedi le cose mai prima viste, mai prima notate, una realtà lontana, 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 tanto lontana, tanto bella, tanto piacevole, tanto piacevole, tanto piacevole, piacevolissima. C'è qualcosa molto importante, molto bella, molto bella, molto, molto, molto bella, straordinaria, 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 e tutto ricordi molto bene, 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 Però tranquillità, senza lasciarsi coinvolgere, con molta tranquillità, con molta serenità, con molta tranquillità e molta serenità. Ora il tuo corpo comincia ad alzarsi, ti viene spontaneo da sederti, da sederti. Anche se il tuo corpo è pesante, ti viene spontaneo da sederti. C'è qualche cosa, qualche forza che ti tira, che ti tira e nonostante che sei pesante ti alzi, ti alzi, ti alzi, ti alzi. Fra poco si apriranno i tuoi occhi, io ti faccio vedere un braccio e tu mi dirai se conosci questo braccio e di chi è questo braccio. Ora puoi aprire gli occhi, apri gli occhi e guarda qua, di chi è questo braccio, di chi è questo braccio, di chi lo conosci? Conosci, conosci questo braccio, di chi è questo braccio, di chi è questo braccio, è tuo, è tuo. E cosa vedi su questo braccio? Degli aghi. E ti fanno male? No. Neanche un po'? No. Ora, vedrai una cosa molto interessante, io ti libero da questi aghi, ma non ti uscirà sangue, non ti uscirà sangue, non ti potrà uscire sangue, perché tutti i buchi immediatamente, appena tolgo aghi, si chiuderanno, subito si chiuderanno, guarda, il primo, il secondo, il secondo, si chiude, il terzo, il quarto. Cosa vedi? Cosa vedi? Dimmi cosa vedi? Due occhi che ti guardano, di che colore sono questi occhi? rossi, e vedi due occhi, due occhi, e sorriso, e cosa ti dice questo sorriso? Cosa ti dice questa faccia? Cosa ti dice? Sorride, 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 tanto, ridi, ancora di più, ancora di più, ancora. Il tuo corpo diventa rigido, rigido, come fosse di legno, come fosse di piombo, piombo, ma un piombo molto particolare, un piombo leggero. Tu sarai molto leggero, tu sarai molto leggero, i muscoli diventano sempre più duri, sempre più rigidi, e ora io metto la mia mano sulla tua fronte, e tu sentirai come i tuoi muscoli diventano sempre più rigidi, sempre più rigidi, sempre più rigidi. Entra in te una forza misteriosa che ti sta facendo tutti i muscoli molto rigidi, rigidi, rigidissimi. E quando avrò letto dieci, il tuo corpo sarà talmente rigido che non potrà più piegarsi, non potrà più piegarsi, sarà come un albero rigido, duro, e non potrà più piegarsi, non potrà più piegarsi. Ora conterò uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. In questo momento sei in grado di essere appoggiata su due punti d'appoggio. Ora sei in uno stato di catalessi completa ed assoluta. Ora sei in grado di essere appoggiata su due punti d'appoggiata su due punti d'appoggiata su due punti d'appoggiata su due punti d'appoggiata, che è in grado di essere appoggiata su due punti d'appoggiata su due punti d'appoggiata. Il corpo è rigido, 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 assolutamente rigido, 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 rigido. Ora ti prendo per le mani e potrai lentamente alzarti e venire con me, venire con me, venire con me. Ora puoi venire con me e tornare a letto, tornare a letto. Ti tiro fuori da un buco molto profondo, ti tiro in alto. I tuoi muscoli ora diventano forti, forti, e tu puoi alzarti con molta facilità, e ora puoi sdraiarti su letto, sdraiarti piacevolmente su letto. trovare una posizione comoda e piacevole, comoda e piacevole, pace, tranquillità e serenità. Ora la tua mente va molto lontano e pensa alle cose molto piacevoli, molto piacevoli, molto piacevoli, molto piacevoli. Ora senti il tuo corpo molto rilassato e ti senti tranquilla e serena, tranquilla e serena. senti la mia mano e la mia mano ti trasmette tantissima sicurezza, tantissima forza e tantissima tranquillità. ora si libera la tua golla da ogni tensione e cominci a sentire una piacevolissima dilatazione del tuo collo, della tua golla, una apertura, una massima apertura. ora per te non esiste tempo, non esiste più niente e ora vedi solo il tuo enorme talento, le tue capacità musicali. ora ti senti come la migliore cantante italiana, come la migliore cantante italiana. ti senti molto bene, molto sicura, piena di forza, piena di benessere, piena di una necessità di trasmettere quello che si può trasmettere solo con il canto, solo con l'arte. ora ti senti pronta e fra poco comincerai a cantare come mai prima. tutto ti verrà spontaneo, con moltissima facilità. già vedi che tanti sono qua presenti, si aprono i tuoi occhi, vedi tanta gente presente, ma non senti nessuna paura di questa gente, perché sai che sei brava, che sei capace, ti senti tanto sicura come mai prima, come mai prima e senti come loro ti stimano, che ti apprezzano. senti un grosso applauso appena sei entrata sul palcoscenico e fra poco comincia la musica e sentirai che io sono sempre con te. e che io sono sempre con te. Grazie a tutti. 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 È stato bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sei adorata dal pubblico, adorata tantissimo. Guarda bene quanta gente c'è, tantissima, e sei così contenta, così soddisfatta perché sai che sei la migliore cantante italiana, la migliore artista. E con questo ricordo ora torni nel tuo posto e sai che non sei prima che sei uscita, che sei ricca di avere questa fortissima, piacevole esperienza. Questa bellissima esperienza. Che vuoi senti la libertà, la libertà come un uccello. Ti senti tanto libera, tanto, 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 tanto libera, tanto libera, tanto libera, piacevolmente libera, libera. E ora facciamo insieme. E ora facciamo insieme, anche nell'ascossa, anche noi, insieme, la libertà. E ora facciamo insieme un viaggio, d'accordo? tra poco ti sentirai in un'altra realtà in un'altra dimensione ora sta arrivando quel momento ora vedi un'altra realtà e senti un'altra dimensione con sensazioni piacevolissime e ti prego di descrivermi quello che vedi e quello che senti cosa vedi? raccontami ora sei libera puoi parlare sei libera puoi parlare e raccontami che cosa vedi? che cosa senti? che realtà vivi? parla puoi parlare più in alta voce? no in una mia casa dove? su prato però ci sono le rocce benissimo avanti parla cavalli c'è qualcuno che è seduto su cavallo chi è? no non c'è nessuno sei sola? no io ci sono e poi parla non parla cosa vedi? io sei tu sei tu ti riconosci? ti riconosci? sì raccontami raccontami che cosa è? parli con un'altra lingua un'altra lingua parla parla ai signori come ai non benissimo ancora avanti i tuoi occhi e ora si aprono i tuoi occhi e vedrai questa realtà ancora più chiaramente si aprono i tuoi occhi e vedi questa dimensione ancora più chiaramente si aprono i tuoi occhi ancora vedi? è bello? vedi? e vedi anche tante cose ridicoli ti viene da ridere tanto ancora 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 di più ancora più forte ancora 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 di più ancora 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 non puoi smettere non puoi smettere non puoi smettere non puoi smettere ancora più forte più forte 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 bellissimo più ridi più sei felice più ridi più sei felice più sei rilassata bellissimo 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 e guarda guarda che bello che bello e guarda cosa ti ho portato prendi dalle mie mani questo piccolo che cosa è cucciola prendilo prendilo nelle mani guarda com'è bello come ti guarda con gli occhi accarezzalo vuole il tuo amore il tuo amore la tua protezione guarda com'è bello guarda com'è bello è il tuo è il tuo è così dolce è così tenero è per te accarezzalo 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 come si chiama? così proprio è così è il tuo è il tuo ti da tanto amore tanto tanto calore umano tanto amore tanto amore tanto amore stringilo 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 non lo darei nessuno da oggi sarà sempre con te da oggi in poi sempre sarà con te sempre con te sempre con te fra poco facciamo una cosa molto interessante fra poco oltre la vostra identità italiana avrete anche l'identità di uno straniero che parla inglese fra poco sarete in grado di comunicare solo in inglese la vostra identità dell'italiano che è come un triangolo che è unito con un altro triangolo che rappresenta la vostra nuova identità ora passiamo in questo nuovo triangolo e ora siete capite italiano ma non potete più parlare italiano potete esprimervi solo in una lingua che per voi in questo momento è diventata la vostra madre lingua e siamo in America siamo in America e voi due siete due amiche e vi volete molto bene molto bene avete bisogno di comunicare tanto forte di comunicare una con l'altra e si aprono i vostri occhi e vi guardate negli occhi e vi viene spontaneo di parlare parlate parola 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 Oh, sì? Non mi ricordo di questo. E tu? Che stai facendo qui? Sto lavorando qui. Sto lavorando qui? Sì. Che tipo di lavoro? Sto cercando di fare l'attrice. Qua testa?" Che? Acho. Che tempo? Un'utilbile? Un'utilbileela? Deо? Un'utilbilele e ora voi capite italiano però provate se potete parlare italiano provate forse non sarà possibile forse avrete una pronuncia straniera come how to tell in english the word the city how to say in italian language the city how to say the city in italian what's your name Barbara well Barbara do you know how to sell the name city in italian do you speak Italian have you been in Italy what are doing in Italy I'm trying to to the actress but why do you speaking can you speak Italian no do you speak English in Italy no yes 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 I can't learn Italian I will learning Italian language I can't learn it you can and do you remember some word in Italian in Italian do you remember some word in Italian how to say the dog in it's difficult for you okay and do you know many people can say for example good day or hello ciao ah okay and how to say good day in Italian did you hear yeah it's difficult for me it's very difficult Italian is very difficult language do you know the other languages do you know the other languages don't remember Barbara you're a very beautiful girl do you know very beautiful girl and what's your name Elisa okay what are you doing it's cool you now say the two self-pertecitizens will be in Italian now I can't run it to 10 a 1 and man mano contero you to corpo tornerà completamente al peso normale and after di che fare il gesto della seconda induzione e si apriranno i tuoi occhi con un bellissimo sorriso che ti verrà spontaneamente man mano contero il tuo corpo comincia ad alzarsi così che quando arrivo a dieci sarai seduta sarei completamente seduta quando arriverò a luna sarei completamente seduta dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno ora fai il gesto della seconda induzione e si aprono i tuoi occhi benissimo ora mi racconti se puoi descrivere tutto quello che abbiamo fatto e le tue esperienze allora quando c'è stata l'induzione mi è piaciuto molto girare quando giravo stavo benissimo mi piaceva tantissimo perché non mi sembrava di girare sapevo che stavo girando però non era come se fossi ormai mi è andata poi dopo sul letto c'è stato dunque il rilassamento poi quando sono tornata dovevo pensare qualcosa indietro cioè dovevo tornare in uno spazio indietro e ho visto già a quel punto io avevo visto delle immagini della vita precedente e mi sono vista incinta nella casa che già avevo visto l'altra volta solo che l'altra volta l'avevo vista quando era strana era tutta abbandonata non c'erano più animali non c'era più niente era tutto strano adesso invece c'erano animali c'erano i cavalli c'ero io e io ero incinta ero molto felice e poi dopo ho guardato il mio braccio ho visto ho visto che c'erano gli aghi nel mio braccio però io non ho sentito niente non avevi nessun fastidio abbiamo messo quattro aghi ho visto però non li ho sentiti non mi davano fastidio e poi cosa hai visto dopo? quando abbiamo tolto gli aghi qua ho visto rosso però mi sembrava una cosa normale non pensavo al sangue non pensavo fosse sangue cioè con una parte sapevo che era sangue perché quella parte che rimane sempre a guardare quello che succedeva sapevo tutto quello che succedeva che era sangue però non mi sembrava sangue a un certo punto io ho visto due occhi due occhi che mi guardavano ma erano simpaticissimi due occhi molto simpaticissimi e ti veniva da ridere? poi mi ha iniziato a sorridermi non lo so mi sorrideva faceva delle facce buffe così era come se fosse stata una strana una strana presenza che io conoscevo che mi faceva ridere infatti infatti ho riso poi sono tornata giù e ho sentito una cosa strana quando ho rigidito i muscoli mi sentivo rigida poi a un certo punto non so perché ho sentito che tornavo mi sentivo una luce forte addosso poi una quando mi avete preso non so ho sentito proprio cadere quella rigidità cadere la cosa non mi ha preoccupato però è stato strano poi ho sentito ah poi sono mi sono vista in un al mare al mare a Ischia però io non sono mai stata a Ischia però quella lì era Ischia ed ero lì con con il mio fidanzato al mare proprio lì in spiaggia al mare a giocare e non lo so io penso non so come sia Ischia però io me l'ero immaginata in un certo modo poi siamo andati non c'era solo la spiaggia prima eravamo in spiaggia poi siamo saliti siamo entrati nei paesi c'era una strada in salita siamo andati in collina poi ho sentito un canto che veniva da lontano io prima pensavo fosse in una casa lì vicino poi non riuscivo a capire da dove arrivasse era un canto molto bello e noi continuavamo a camminare poi lui mi diceva perché non andiamo su un'altra isola e ci siamo ritrovati all'isola del Giglio che è un'isola dove io vado spesso andavo spesso da piccola e dicevo no 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 dai qui ci siamo già stati allora andiamo in un altro posto siamo tornati a Ischia poi abbiamo iniziato a volare e ci trovavamo sospesi sopra prima sopra l'isola poi nell'aria proprio così e siamo arrivati a Milano e allora andavamo a guardare dentro le finestre delle case a guardare a cercare una casa che ci piacesse per infilarsi solo che poi alla fine ci trovavamo sempre in corso magenta e non so perché eravamo sempre lì alla fine in quelli intorni in quella zona poi quando ho sentito che dovevo appunto volare diventavo leggera e volavo io ero contentissima perché già stavo volando per cui stare ancora sospesa nell'aria per me era bellissimo e poi c'è stato il ritorno indietro ancora nel tempo sì e lì ho visto subito la roccia che io vedo sempre che sono delle rocce c'è una gola al mezzo ci sono delle rocce però stavolta era tutto tranquillo anche questa volta e poi c'era un prato grandissimo grandissimo e poi c'era appunto questa casa con gli animali però non c'era nessuno non c'ero io non c'era nessuno e io mi cercavo perché volevo sapere cosa stavo facendo e poi ho visto che stavo arrivando da lontano ed ero insieme a un uomo con un uomo scuro e giocavo con questo uomo e poi ci siamo avvicinati e io parlavo con lui cioè parlavo scherzavamo dicevamo qualcosa così e lui si chiamava Siss però era strano perché io sono io ero in Irlanda però lui non è irlandese non è niente arrivava da un altro posto e poi hai sentito prima il nome Assis sai di che origine è questo nome? no io so che c'è Aziz scritto con la Z che se non sbaglio è un nome africano però lui non è Aziz o indiano non lo so lui è Assis una cosa così comunque è diverso non è lo stesso e non è neanche africano indiano però non era neanche irlandese ti è venuto spontaneo parlare una lingua straniera in quel momento? sì e che lingua era? penso la mia non lo so e come si chiama questa lingua? e non lo so perché era una lingua strana perché non era proprio inglese era un misto di qualcosa era non lo so non so proprio cosa fosse penso fosse la lingua lì o del posto oppure la mia perché non so mi sembrava quasi fosse mista di un inglese e quasi anche di una lingua che non ho mai sentito non so di dove possa essere come se fosse stata la sua lingua di questo uomo e poi io l'ho rivisto da vicino e ho visto soprattutto gli occhi lui ha i capelli un po' lunghi scuri e negli occhi nel qua un po' nei lineamenti è sempre il tuo ragazzo sempre lo stesso è stato molto piacevole durante tutta la seduta c'era qualcosa che ti ha dato un fastidio questa cosa strana di quando mi sono sentita molle tutta molle così spontaneamente improvvisamente una luce ho capito va bene io ti ringrazio tantissimo sei stata molto brava ciao molti pensano che durante lo stato ipnotico si perde la coscienza e che si può manipolare con il soggetto come vuole l'ipnotizzatore ma questo non è vero dopo aver fatto questi sperimenti abbiamo visto varie forme dello stato ipnotico le persone i soggetti sempre sono state non hanno perso la coscienza sono state sveglie ma nonostante questo sono riusciti riuscite ad ottenere una profonda trasformazione della loro mente per quanto riguarda l'applicazione pratica dell'ipnosi possiamo dire che in questo tempo dello stress di fretta questa tecnica è in modo particolare utile per il rilassamento è la forma un metodo più efficace per rilassarsi sia il corpo come anche la mente oltre questo possiamo o applichiamo l'ipnosi nel campo della psicoterapia nella cura dei vari disturbi mentali tanto per citare varie forme di ansia fobie stati ossessivi e anche per quanto riguarda le malattie più gravi come per esempio psicosi o schizofrenia l'applicazione dell'ipnosi è possibile anche nel campo della pediatria molti bambini soffrono dei tic di iperchinesi di enuresi notturna e qua il metodo ipnotico può in breve tempo essere un mezzo efficace per la gualigione l'applicazione dell'ipnosi troviamo anche nel campo di ostetricia ormai non è il parto in ipnosi non è più una cosa misteriosa come di una volta l'ipnosi si utilizza anche in medicina per le anestesie analgesie e soffre in modo particolare anche nel campo di oncologia per preparare la persona per stati difficili e per calmare anche tutti i dolori fisici sembra che lasciando il campo della medicina l'ipnosi non ci serve più ma questo non è vero l'ipnosi è anche molto utile per tutti quelli che vogliono studiare in modo particolare le lingue straniere per tutti quelli che vogliono aumentare la loro creatività e di essere più attivate per qualsiasi tipo dell'attività l'ipnosi è anche molto utile per la preparazione degli sportivi possiamo senza qualche pericolo utilizzare l'ipnosi per stimolare sia la mente dei sportivi che anche le sue le loro forze fisiche alla fine possiamo dire che lo stato di trance ipnotica è molto efficace per la resistenza contro qualsiasi tipo di malattia la seduta frequentemente praticata aumenta e rafforza l'apparato immunitario e non permette di ammalarsi facilmente l'utilità dell'ipnosi è dunque molto ampia e speriamo che sempre di più potrà essere in aiuto di tutti quelli che ne hanno bisogno di di